Un grande appuntamento sportivo, si respira un clima fantastico qui a San Siro. Un saluto da Fabio Garesa con me per il racconto di questa partita. Ci sarà Luca Marchiagiani. Ciao Fabio, godiamoci questa partita insieme. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi Luca? Per me sarà Thousand. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Smolnikov, c'è la verticalizzazione. Sulla fascia, è libero. Bel gesto tecnico. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Palla profonda a cercare lo spazio. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Bel anticipo, bevolo sventato. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Passaggio in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Finora nessuno vuole correre rischi. È solo l'inizio. Le cose possono cambiare da un momento all'altro, speriamo. Trova il compagno in ottima posizione. Colpisce il pallone. Supera la vita, gol! E arriva così il gol del vantaggio. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Prova la giocata nello spazio. Chance per tirare. Il difensore ci arriva. Palla in profondità. Smolnikov. Il pian soraccio. Se l'è vista brutta qui, ha rischiato moltissimo. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Prova ad allargare sulla fascia, ma con scarsi risultati. Occhio al lancio lungo. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Riceve in zona pericolosa Prova il filtrante Attenzione, grande chance Palloni in avanti Prova a saltare al centro campo Cerca spazio Riceve il passaggio Guadagna metri In qualche modo sono riusciti a cavarsela Si sta giocando da mezz'ora Il portiere la calcia lontano Ottimo intervento di copertura Diamanti Passaggio in avanti Vuole la profondità Da lì può segnare Occhio alla conclusione Ottimo disimpegno Fondamentale Niente da fare Non passa Cerca il passaggio profondo E sbaglia completamente il suggerimento Altro fallo laterale Ancora un ottimo intervento difensivo Smolnikov La mette in avanti Grande progressione sulla destra Ma i compagni non lo assistono Prova il cross Cross allontanato Niente di fatto Palla in avanti Verso il compagno Diabì Palla profonda Va a cercare lo spazio Palla giocata in profondità Ottimo intervento di copertura Ottimo intervento Arriva il fischio dell'arbitro Può bastare per questo primo tempo Non è stata una prestazione Molto convincente Possono fare molto meglio di così Devono recuperare fiducia E non farsi prendere